Il pescato di Chioggia si sa parte tutte le notti per arrivare sui mercati al minuto di tanto nord Italia. Da oggi ci sarà un negozio in più pronto a fornire il pescato fresco appena portato e scaricato dalla barca. Il nuovo negozio si trova a Campo Nogara, si chiamerà come l'attività che i titolari hanno a Sottomarina, Pescheria da Carmelo. Darà lavoro a due chioggiotti che porteranno il pesce fresco appena pescato direttamente dal peschereccio di Roberto Penzo, Tanfa. Non solo un pescatore ma un imprenditore impegnato perché il suo lavoro e quello dei suoi colleghi venga valorizzato. Il negozio si trova in piazza Marconi al Civico 22 e da oggi aspetta la sua nuova clientela con una garanzia che il pesce fresco di Chioggia non ha uguali. Al prossimo episodio